Cristina, è tutto pronto per i nostri amici questa sera? Sì, ho preparato anche qualche cosa di dolce. Ma Cristina, ai nostri amici non piacciono i dolci. Niente dolci, eh? Dipende da cosa si offre. Cristina sa che avrà successo, perché Mon Cherie è una grande specialità alla ciliegia. Una bella serata, grazie. Non piacciono i dolci? Qui è rimasto un solo Mon Cherie. Ma Cristina, Mon Cherie non è un cioccolatino qualunque. Ah no? Chi può dire di no a Mon Cherie?